Come è la gestione della gestione del progetto? E' un argomento sicuramente di grande interesse perché nella costituzione di un gruppo di progetto è fondamentale la condivisione dell'obiettivo con il team di progetto e la capacità di ottenere il contributo da parte di tutti i componenti del progetto che fa parte del gruppo per via delle proprie specifiche competenze. Quindi per ottenere questo occorre curare in particolare la relazione per dare sia supporto alle persone in quanto facenti parte del gruppo di lavoro sia a livello individuale perché poi ognuno ha la propria soggettività, le proprie caratteristiche e per raggiungere l'obiettivo legato al progetto è necessario che appunto tutti riescano a collaborare, cooperare e siano nella condizione migliore per offrire i loro contributi e quindi alla fine raggiungere l'obiettivo del progetto.